Io sono Davide della banda Bassotti, c'è Mauro, un compagno che conosco tantissimi anni da quando eravamo piccoli, che collabora sempre con la carovana, è venuto in Donbass con noi e c'è Riccardo, un compagno qua della zona, che collabora con noi, ci ha dato moltissimo materiale da portare in Donbass, negli orfanatrofi, negli ospedali, più o meno diciamo solo la stessa faccia, magari chi va in Donbass o chi aiuta ai compagni che vanno in Donbass, perché fondamentalmente pure i compagni che ci danno una penna, un pacco di penne, un aspirina, una medicina, hanno lo stesso valore di chi va, in fondo noi quando andiamo non siamo altro che gli occhi e la voce e il racconto a ritorno di quelli che non so potrebbero venire con noi, non saremo mai andati senza i compagni che ci aiutavano perché come dico sempre da soli non si fa in nulla, quello che si fa, almeno quello che noi pensiamo del comunismo, è quello che si fa insieme agli altri, non tutti riescono a trovare i sordi del biglietto per andare in Donbass, tutti hanno le ferie, però molti compagni ci aiutano portando ai concerti medicina o un pacco di penne, di pennarelli per i bambini, questo è un po' il progetto della carovana antifascista nella pratica. Nella questione politica la carovana antifascista nasce nel 2014 dopo il corpo del Stato che c'è stato a Kiev, che è stata un po' quella cosa che tutti i regionali hanno parlato che si chiama Maidan, che sembrava una cosa abbastanza democratica, ma poi abbiamo visto nel corso di alcuni mesi, nel novembre-dicembre 2013 fino ai primi mesi del 2014, trasformarsi completamente in una piazza gestita da nazisti. È vero che la piazza all'inizio, per dover di cronaca e per non essere una banda poi di ipocriti che racconta la verità come, solo come gli fa piacere, nella piazza all'inizio c'erano pure persone normalissime perché andavano a manifestare contro il governo di Yanukovic e ben a male protestava per avere delle condizioni di vita migliori. Il problema è che la piazza è stata gestita quasi subito da nazisti, per cui la gente normale poi si è andata alle proteste della piazza e sono rimasti nazisti. Le inchieste che ci sono state dopo hanno praticamente spiegato che c'erano georgiani, rituani, ucraini naturalmente, ma anche persone che venivano da altri paesi solamente per montare una protesta, fa cadere il governo e fa cadere quel colpo di Stato che poi c'è stato. Alcune inchieste hanno stabilito che c'erano dei cecchini georgiani, per esempio, nell'arco dei primi mesi del 2014 che sparavano sia ai civili che protestavano in piazza sia alle forze dell'ordine che difendevano il governo. Queste sono state inchieste, non è che me ne invento io, insomma, queste cose. Nel 2014, de fatto, c'è stato un colpo di Stato che ha culminato col massacro di Odessa il 2 maggio 2014 quando un branco dei nazisti ha assaltato una manifestazione pacifica dei signori, signore, bambini, giovani, comunisti e gente comunque che non era d'accordo col colpo di Stato che stava accadendo in Ucraina. a Odessa praticamente hanno assaltato un corteo, le persone del corteo si sono rifugiate poi alla casa dei sindacati di Odessa il 2 maggio 2014 e praticamente dal pomeriggio in poi c'è stato un massacro. La gente è stata, i compagni, i signori, i signori che si sono rifugiati a Odessa hanno pensato che, meno male, erano dentro un palazzo e non ne sarebbe successo niente, invece quelli fuori dal palazzo hanno incendiato il palazzo. La gente che scappava, perché il palazzo prendeva fuoco, si buttava pure dal secondo piano, il palazzo dei sindacati, scusa, la casa dei sindacati di Odessa. La gente che scappava da là è stata abbastonata e uccisa, le cifre ufficiali parlano dei 48 morti, i sovravvissuti del massacro di Odessa che abbiamo conosciuto noi, che abbiamo pure portato in Italia a parlare in diverse città, ci raccontano forse anche dei 200 morti. Questa è più o meno stata la molla che ci ha spinto a mettere in piedi quel progetto che abbiamo chiamato Carovano, antifascista, la banda Bassotti. A questo progetto hanno aderito personali di tutta Europa, di tutto il mondo, ci hanno mandato medicine, fondi, un sacco di cose e siamo riusciti a partire a settembre del 2014, la prima volta tutti quanti insieme, c'era pure Mauro e c'eravamo, mi sembra, un centinaio di compagni da tutta Europa, c'erano greci, spagnoli. La prima volta siamo andati in Donbass, la seconda siamo tornati che era maggio del 2015 e poi ha eseguito più praticamente una volta all'anno. Nel questo lasso temporale facciamo delle raccolte per i bambini del Donbass, che abbiamo chiamato Dead di Donbass, raccogliamo poi moltissimo materiale ai concerti, ognuno di noi portava 23 kg di peso, che è il peso massimo consentito quando prendi in aereo internazionale, di portare in aereo, ognuno di noi voleva essere un mezzo di trasporto solidare, perché quello che volevamo noi era la solidarietà internazionale antifascista. La carovana è stata chiamata carovana antifascista per dare un connotato abbastanza chiaro, non volevamo essere la carovana umanitaria, non ci interessava l'ipocrisia, molti partiti italiani, compresi i sindacati, non hanno fatto nulla per poter sostenere le popolazioni del Donbass e ripeto che la casa che è stata bruciata si chiama la casa dei sindacati, né CGL né CISLEWILL hanno mai fatto una manifestazione in solidarietà di questo massacro nazista. La banda popolare in Ghiarolta gli ha dedicato una canzone, sì è vero. E' stato pure un sacco documentale. Sì sì sì. Vorrei dire solo una cosa, i militanti di questa organizzazione sindacale a volte ci hanno dato una mano, è giusto dirlo perché non si può fare, come si dice in questi casi, brutalmente tutta nel banfascio, perché i militanti invece antifascisti ci hanno dato una mano, ci hanno dato soldi, ci hanno dato materiale, però le sigle sindacali non hanno mai fatto nulla contro il massacro della casa dei sindacati. Alcune volte i sindacati CGL in un momento specifico ci ha dato una mezza lesione a una carovana, ma realmente non hanno mai preso le distanze con un documento ufficiale, con un comunicato ufficiale, o almeno io non mi ricordo, mi posso pure sbagliare. Siamo arrivati in specie di talmeccanici di Modena. Sì, alcune situazioni sì, anche la FIOM, non posso dire quello che non è vero, però dico proprio i sindacati, alcuni sindacati sono nati dalla resistenza, dalla lotta al fascismo, non hanno mai preso una posizione chiara. Ricordo alcuni parlamentari del PD sono andati perfino a Maidan, sul palco, mentre sotto c'erano gli striscioni, c'è stanno i video queste cose, non è che le dico io, c'è stanno i video che questi parlamentari del PD stavano sul palco insieme a questa grande protesta, dominata dal nazifascismo e dalla CIA. Uno dei grandi portatori del messaggio contro il comunismo era McCain, che pure lui è andato a Maidan dal palco, ha ringato la folla, ha trovato i suoi tifosi sotto al palco. e io non so come hanno fatto quelli del PD a sostenere la cosa del genere, ma ovviamente ormai non mi stupisco più di niente perché quelli del PD sostengono che bisogna armare l'Ucraina, anche in questo momento che è veramente anticostituzionale e comunque quei simpatici ragazzi democratici di Azov che sono pieni dei tatuaggi con le sbastiche addosso, non so come fanno a difenderli. Non lo so, come si fa a armare un paese che de fatto... C'è stato un momento che no, dell'OSCE. C'è il 2016 che stabiliscono che tra i settori e... Come no? Come no? No, ci stanno... Ci stanno alcuni, come si chiama, istruttori dei Marins americani che dichiarano ufficialmente che quelle truppe che hanno addestrato erano naziste, non è che dice che erano falsamente naziste, dichiarano che erano naziste. Perché in questi otto anni di guerra, perché la guerra non è cominciata il 22 febbraio, è cominciata otto anni prima, in questi otto anni di guerra gli ucraini hanno... Gli ucraini hanno praticamente fatto quello che volevano, per quello a noi ci sembra strano che si sono tatuati e sbastiche addosso, loro non mai hanno pensato che sarebbero stati puniti per i crimini contro l'umanità che hanno fatto, loro hanno sempre pensato che sarebbero stati impuniti, per questo in questi otto anni hanno sparato i civili, si sono tatuati e sbastiche, non hanno mai pensato che qualcuno poteva andargli a prendere, perché se no uno normale dice, vabbè faccio quello che posso fare, se se mette male me levo. Dal punto di vista militare quello che ci vanno vende è che l'Azov è un piccolissimo battaglione, realmente dopo Maidan, tutti quelli che hanno partecipato a Maidan, nel senso non tutti quelli, tutti quelli che hanno avuto bene o male la gestione della piazza, dal governo ucraino sono stati premiati, mandandoli a fare, una volta le hanno mandati a fare il sergente da una parte, l'ufficiale da una parte, non l'hanno fatti i generali, gli ultrassi che hanno partecipato ai scontri a Maidan, ma l'hanno fatti, come si dice, ufficiali, l'hanno messo in piccoli incarichi pubblici nella polizia, nei ministeri, per cui praticamente hanno sparpagliato con tutta l'Ucraina migliaia e migliaia di persone con ideologia nazista. Che quello che ci hanno fa credere che, penatti, perché ormai manco lo dicono più, che Azov è solamente un piccolissimo caso di nazismo all'interno dell'esercito, non è vero, Azov è in grande battaglione, ce ne stanno altri 7-8, non so, Aida ci sta pieno se è pieno dei nazisti, ci hanno incarichi di potere, il capo della polizia di Kiev era un famoso nazista, ci vanno venne a una minestra che non è quella che è vera. Questo è quanto poi nel tempo la storia ci darà ragione, vediamo se ci darà ragione, io penso che sì, vediamo, perché prima o poi usciranno i dati, ma adesso quello che ci dicono che sono difesi dai russi, la guerra è cominciata 8 anni prima, piano piano questa verità viene a galla, perché non è così facile. una giornalista tedesca, un giornalista BBC hanno documentato nel tempo alcuni servizi da Araides, 5, 3, 4 anni fa, dichiaravano espressamente che Azov era un battaglione nazista, non è che dichiarava che erano dei ragazzi volontari della... L'esercito ucraino? L'esercito ucraino? Sì. L'uso dell'armigli di fatti, che l'esercito ucraino faceva... L'accordo dei mischi vietavano... L'accordo dei mischi sono stati fatti nel 2015 due volte, mischi e mischi 2, non sono stati mai rispettati, dal giorno dopo hanno sparato sui civili normalmente, hanno usato armi che erano stati vietati nell'accordo dei mischi, ma il governo degli Stati Uniti dell'America, la Nato, hanno solamente fomentato, provocato la Russia fino a far scoppiare il conflitto vero e proprio, perché l'Ucraina una settimana prima ha bombardato Donetsk, per cui praticamente non c'era nessuna intenzione di arrivare a una mediazione politica. appena è scoppiato il conflitto tutti hanno mandato armi, nessuno ha detto, vabbè io l'Italia non voglio mandare armi, voglio fare una soluzione diplomatica, politica, così, hanno mandato tutte le armi, tramutandosi immediatamente i nemici, perché un conto è che tu dici, mi metto neutrale, l'Italia per esempio, un conto è che dici manda le armi, se mandi le armi per la Russia sei un nemico, io ti dico che quando siamo andati in Donbass, alla frontiera per i russi noi eravamo dei nemici, poi piano piano ci conoscevano quello che è, però realmente l'Italia è un paese nemico, non è un paese amico, gli mandiamo le armi all'Ucraina, in questo frangente, certo. Dal 22 febbraio noi abbiamo deciso di appoggiare militarmente l'Ucraina in una guerra fatta dal governo degli Stati Uniti contro la Russia, secondo me gli Stati Uniti hanno fatto bingo, perché non muoiono loro, muoiono solamente gli ucraini, la guerra la finanziano loro, la crisi la paghiamo noi, noi abbiamo visto tutti quanti che la benzina a quanto è arrivata immediatamente, sai tutti i prezzi, i supermercati, la roba, mi ricordo c'è stato pure il trend dell'olio che era sparito, perché la crisi la pagano i casse più poveri italiane, spagnole, non è che la pagano il governo degli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti fa bingo perché le fabbriche di armi sono le sue, le armi le mandiamo pure noi, la crisi la paghiamo noi, loro bene o male non rischiano niente e guadagnano solo, quello che vogliono fare è mettere in crisi la Russia, provocando, 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 ci sono riusciti, inoltre neanche fanno la guerra, perché la guerra la fanno l'Ucraina, noi fortemente non gli mandiamo gli uomini, ma se gli mandiamo le armi siamo un popolo che si è schierato contro la Russia, questa cosa c'è un costo, non è che noi mandiamo la roba così, la roba si paga, dice che dopo il Covid non c'erano i soldi per la sanità, eppure mi sembra che hanno trovato non so quanti miliardi da mandare gli armi là, non solo noi poi, Spagna, tutti i paesi che sono stati colpiti dalla crisi, la crisi del Covid è vera, è esistita, ce l'hanno fatta pagare, ce la faranno pagare, i soldi non c'erano, sono usciti fuori i fondi, noi per esempio avremmo uno di fondi per ospedali più che paguera. Io credo che l'unica soluzione... Sì ma l'accordo dei mischi non sono durati un giorno, l'accordo dei mischi 2 non sono durati un altro giorno, qui mi dispiace dirlo, ora dico una cosa che sembra fantascienza, l'unica soluzione è uscire da Nato e da Unione Europea, non vedo altre soluzioni, perché sennò siamo un esercito aggressivo contro altri paesi di cui non siamo manco nemici, noi facciamo il gioco dalla Nato, del governo dei Stati Uniti e dell'Unione Europea, che poi se vedi i percentuali delle persone sui sondaggi, non è che sono tutti favorevoli a fare questa cosa, più del 60% è contrario, eppure mandano le armi, come funziona? Questi non sono eletti, parlo dell'Italia, non sono eletti da noi, fanno come gli pare, pieno di decisione a nome nostro, in guerra c'è, a fine ci andremo noi, perché l'altro non è che vanno a fare la guerra con i politici, ci mandano i poracci. Quei territori, nel 2014 colpo del Stato gli è stato vietato l'utilizzo della lingua, la cultura è tutto ciò che era russo, considerando che sono russi, perché questa fandonia dei filo russi, è tutta una cavolata, quelle persone sono russe, che abitano in quelle zone e in molte parti pure dell'Ucraina sono russi, si sentono russi, le persone anziane si sentono fidate all'Unione Sovietica, che non è la Russia, io quanta volte uno diceva a voi difendete la Russia, che è una banda così, io so che la Russia non è l'Unione Sovietica, in un senso proprio deficiente, preferisco l'Unione Sovietica alla Russia moderna, questo però non vuol di niente con la guerra, le persone là si sentono russe, sono russe di cultura, se tu gli vieni da parlare russo, la cultura russa, il cinema non ci può stare, deve essere tutto in Ucraino, non mi sembra una cosa democratica, l'atterito del conflitto nasce che lì comunque si è instaurato un gruppo di Stato, si è instaurato un gruppo di Stato fino nazista, le famiglie, gli abitanti di quel posto so, più o meno, discendenti dell'Unione Sovietica, sono russi, però la maggior parte della gente lì, come il Russia, ha avuto milioni e milioni e milioni di morti, quasi tutti hanno un familiare che è morto nella Seconda Guerra Mondiale, per cui non c'hanno nessuna attenzione a andare sotto un governo di estrema destra, filo americano, filo aggressivo poi, non è così, una dichiarazione del Presidente dell'epoca dell'Ucraina diceva che i figli nostri studieranno a scuola e i figli dei russi studieranno a cantina, non è che sono cose dette da un Presidente, non è sono cose tipo dette d'armato che cammina per strada ubriaco, vuol dire che c'è una determinazione del governo a eliminare quella popolazione che è russa. Sì, quando poi nel DOM si è stato fatto il referendum, la gente là ha deciso di non andare col governo, a quel punto l'Ucraina ha bombardato, mi sembra il primo bombardamento il 46 aprile del 2014, hanno bombardato con l'aeri, le reggivano hanno bombardato, l'Ukask mi sembra il primo, poi magari mi perdo perché pure io tutte queste cose delle date, per me l'Ukask è il primo, o Donetsk, questo è stato l'inizio del conflitto, dopodiché la guerra è guerra, il 22, se sarebbero accortati attraverso l'Ukask, perché l'Ukask probabilmente potevano riuscire in modo diplomatico? Certo, ma l'accordo dell'Ukask non sono stati mai rispettati, l'Ukraine non ci ha mai avuto intenzione di rispettare l'accordo, non deve fare niente per rispettare, hanno sempre bombardato, sparato, ha usato armi non convenzionali, non c'era si interesse, l'Ukraine è adesso il braccio armato del governo degli Stati Uniti, della Nato, per cui fa la guerra. E' iniziato questo conflitto o è stato il governo? Certo, hanno sempre cercato l'indebolimento della Russia, fa cascare governo, fa cascare Putin, è inutile fare esempi stupidi tipo la crisi dei missili a Cuba, perché i cubani vogliono mettere i missili, ma non penso che se uno mette i missili in Messico, il governo degli Stati Uniti non invada il Messico o il Canada, per cui magari la persona che sente il telegiornale non fa questo ragionamento, ma dopo un po' di tempo la verità esce fuori però, eh. Si, 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 si. Mi sa che ci siamo. Noi quello che riteniamo importante di è che probabilmente l'unica soluzione del conflitto è uscì, che sembra fantascienza, come ho detto noi, è uscì da Nato, dall'Unione Europea, che è solamente il braccio armato aggressivo del governo degli Stati Uniti. E la crisi, in questo caso pure, l'invio delle armi la pagano i poveracci, le classi più povere di tutta Europa, non solamente Italia, Spagna, tutti i paesi coinvolti, le classi povere dei paesi coinvolti sono quelle che pagheranno sta crisi. ci auguriamo che il conflitto finisca nel più breve tempo possibile, crediamo che per finì devono essere liberate le zone del Donbass, la Crimea è già libera e poi vediamo come va. Io non sono esperto in geopolitica o di futuro militare, mi auguro che una volta liberate le zone del Donbass si possa arrivare alla fine del conflitto. Sì, sì, siamo pieni del basenato noi qua, siamo pieni, pensa un po' di più ce n'avevamo, se sono obiettivi, è certo sta. Sì, 4 euro. Sì, 4 euro. Sì, 4 euro. Sono 120. No, quelle operative. Quelle operative. L'aeroporti, quelli di guerra, sì. Sì, Aviano, Siconella. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Diurno. Aviano. C'è Comiso. Sì, 19. Eh. A posto. Grazie.